What the f... Ah! Una matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ficciochiamer89, siamo tornati in un nuovo opening pack, ultimamente vi sto facendo un sacco di opening pack, ma perché sto facendo un sacco di opening pack? Ambrogio, Birillo, Aurora guarda la roba che c'è, perché ci stanno un sacco di pacchetti ci stanno a togliere tutti i crediti dall'ultimo proprio da prima all'ultimo perché questi sono gli ultimi tosse esatto, quindi dopo questi basta tosse esatto, quindi basta spacchettamenti se torniamo a giocare e signori dato che ci hanno tolto abbastanza i sordi ci stanno solamente dieci pacchetti da cinquantamila significa che io ne aprirò trenta da cinquantamila, significa un milione e mezzo eh sì da caccola eh qua andiamo a schifo eh per forza è che qua eventualmente sta l'ultimo dici eh sculo joker, sculo qua, sculo te là sculo sopra eh ma ti bisogna vedere che carta blu perché io sono buoni eh no no non è vero devi puntare a me a Ronaldo non ho mai trovato ho io Ronaldo è il minimo che te lo scii 87 ho visto eh guarda un po' dai pezzo c'è ah ce l'ho impegnato pezzo c'è tu qua il cacarcazzo dai BAM che vu ti fa? eh il BAM ok gli mi da che devo da? gli devi da la spinta per fargli capire che il mostro tra io un po' subentrante ah eh però quindi guarda devi trovare Ronaldo BAM fa pure il toglie semplice c'è niente no no vabbè ma controlliamo sempre quegli opioni ah zitti ci sai qualcuno mi devo scalla eh te devi scalla ah pure il meno vedo me c'è va bene PAM mazza che tristezze ammazza oh belli pacchetti da 50.000 euro se trovo uno blu non lo dì lo scarto su questo pacchetto te prego uno blu pure se che no no non ci credo no no ma non è possibile no 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 con me queste cose non le puoi fate te lo stavo a dire no no non le fare con me queste cose no ma Pagliette hai ti ha detto bene però hai aspettato fifa mi senti perchè fifa i miei scritti ah senti come te senti i miei scritti mi hanno detto che fifa mi sente fifa mi sente allora io però che ti ho detto come non lo fare perchè il minimo che puoi trovare è 87 Pagliette salutalo aspetta un attimo fa muovete un attimo guarda che bello qualcosa sembra più o meno incazzato l'ercio guarda che bello questo è fratello Pagliette ok ciao scartato scartato porca troia se c'erano l'andermessi ti mando una peggio te ci devo il più scazzo dei figli dei tossi ho capito ragazzi io non lo ridici no ho dato io come ho visto qua la testa blu fatto che questo lo scarta l'ho detto accalla se qualcosa hai tosto cazzo tuo eh io ho detto non lo dico a me e tu ho capito ma la seconda volta adesso sai come funziona adesso non troviamo più niente poi li dico quello trovo ho scarto eh quanti qua ti sta trappi in cazzo ma vuoi trai l'ultimo fa male a me ma l'ultimo qua non è l'ultimo l'ultimo qua non è l'ultimo l'ultimo qua non è l'ultimo ma guardate che veramente Fifa mi ascolta eh oh Fifa mi ascolta mortacci sua non lo scommetto non troviamo più un cazzo finch'io non lo ridico finch'io non lo ridico finch'io non lo ridico che lo scarto oh ma sembra che lo fanno apposta io ti ho detto no di Higuain e niente hai visto su 10 pacchetti così a random l'ho detto vedrà no eh niente oh bei pacchetti e merda oh ammazza oh oh se siamo se siamo impegnati perchè so manca il giorno che soffri i toz stavano dato pagliette giusto per fatte toh chiedere uno intanto ho trovato pure aduliz eh l'ho pure scartato scartato signori uno l'ho trovato uno l'ho scartato sono troppo forte mi sono soddisfatto oh si hai spacchettato un milione e mezzo mi trova 110 mila crediti se tutto va bene compratevi i giocatori se ci ho pa' di crediti compratevi i giocatori ragazzi ah io no vabbè ma se fai video su youtube ok però poi tu c'è il culo eh oddio salto comunque signori inutile perde tempo perchè tanto non ne trovo neanche mezzo ah grazie proprio se vi ti è piaciuto pollice in su commentate condividete neanche scuro joker ci è servito per trovare un cazzo a uno non ho trovato una è scartata il cazzo poi ah allora ha detto no no fai ah al prossimo appuntamento posso riceverlo tante robe ah libidine proprio è andata bene questo giro 30 panchetti a 50 mili hai capito già l'ha appunto trova Messi Ronaldo Robben Sanchez trovo questo è il più basso che c'era paglietto 87 ma hanno dato il pulisci scarpe dee da durizze porco due mi scemo hai dato trovi che mi scemo hai dato trovi che